l'edizione del cittadino di domani sarà ricchissima partiamo dai temi occupazionali due oggi fronti aperti l'incontro in sede di assolodi tra i sindacati e i responsabili della abb l'azienda svedese ha annunciato sul polo di lodi 30 licenziamenti stiamo poi facendo il punto sulla vertenza delle excurioni di galganiano spostiamoci ad altro tema di attualità che è il coronavirus siamo sulle tracce di una famiglia cinese che ha un'attività commerciale a lodi che è ritornata in cina e in questo momento è bloccata non riesce a tornare nel nostro paese sempre sul cittadino di domani la consueta pagina green del martedì vi ricordiamo la battaglia contro la centrale a carbone di montanasio tavazzano combattuta dal territorio negli anni 80 con il ricordo dei vecchi sindaci e le foto dell'epoca in bianco e nero del nostro pasqualino borella facciamo il punto sulle iscrizioni nelle scuole superiori volano il volto e il bassi quindi istituti tecnici in caduta libera le iscrizioni ai licei classici del territorio e ancora tavazzano state seguendo la vicenda del cedro secolare che il comune ha deciso di abbattere gli ambientalisti si sono schierati contro e sono pronti fisicamente a impedire il taglio che è programmato per venerdì di questa settimana a codogno stiamo seguendo le celebrazioni per san biagio domani una valanga di pagine con le vostre foto di gruppo da tutto il territorio le ultime due notizie riguardano il sud milano tra peschiera e mediglia una imponente operazione antispaccio con 30 uomini dei carabinieri della polizia locale appostamenti durati giorni in seguimento degli spacciatori nei campi infine paullo abbiamo intervistato enrico ceresa classe 1925 pochi giorni fa premiato a milano durante la seconda guerra mondiale salvò 20 persone dalla fucilazione questo e tantissimo altro sul giornale di domani tutti gli aggiornamenti li trovate sul sito internet domani alla stessa ora le anticipazioni